Polly Magoo di Bacoli, buonasera da Giulio Alfano e benvenuti al TAM in campo. Zone Twin e Quick Byte, buon divertimento. Esposito, Piano, carica il destro, la risposta di Bruno. Napolano, Piano, c'è largo scotto, pallone per lui, al centro, Parascandolo! Il gol di Angelo Parascandolo che porta avanti, Quick Byte, 1-0. Arena, potrebbe bene palla, va via Parascandolo. Tocca per Lubrano, controllo di destro, Lubrano se la porta sul sinistro e fa partire un diagonale chirurgico che vale l'1-1 Planet Twin. Domenico Lubrano, costigliola, il destro! Che beffa barone, avanti Planet Twin con Gianluca Costigliola. Carannante, Marotta, Costigliola, lotta con il corpo, il sinistro! È una sassata vincente, 3-1 Planet Twin, doppietta, Costigliola. Marotta, morbido, Carannante, il schiatto di destro e la rete del 4-1 Planet Twin di Laga con il gol di Pietro Carannante. La punizione viene invertita, può ripartire Planet Twin, Costigliola, Carannante, 2-1, ancora Costigliola per Carannante! Transizione perfetta, che vale, il 5-1 e Dominio giallo-nero. Stiano viene fermato, se a cavo la prima parte, finora un monologo Planet Twin, 5-1. L'Ubrano e Parascandolo, Stiano, Parascandolo al centro, Esposito! Si fa trovare pronto all'appuntamento col pallone e segna il 5-2. Gianni è spassato davanti, veramente faceva il primo piano. Napolano, Esposito, piano ancora per Esposito! Sinistro potentissimo sul primo palo, 5-3 la doppietta di Michele Esposito. 2-50. Segnavo. Però me lo segna, me lo segna, sì. Napolano, la puntata è Bruno con l'aiuto della traversa. Qua, Spiano, Esposito. Napolano, ottima la finza, rimorchio per Spiano, Esposito! Tutto di prima, tutto stupendo! 5-4, tripletto di Esposito. È partita apertissima. Si riceve Esposito, carica il destro! La traversa, sta ancora tremando. 5-50. Non facevo io, però. Barone, Esposito. Piano, 1-2 ancora, Esposito! Ribonta completata della Quick Byte, 5 pari, cala il poker. Michele Esposito. 12-30. L'obrano, il sinistro, Barone e il palo. Mauro 19-3. Esposito. Piano, si gira piano. La conclusione di destro! Ed è il vantaggio della Quick Byte che ribalta il punteggio. e si porta avanti. L'obrano, fermato. Parascandolo. Piano. Arrivando Scott, pallone per lui. 8 per Spiano! Di tacco! Firma la rete del 7-5, doppietta per lui. Planet Win sotto di 2 adesso. Se acabò il partito, in rimonta. La Quick Byte batte 7-5 la Planet Win dopo essere andata. all'intervallo sotto di 4 reti.